L'Università Roma 3 in corsa per il Solar Decathlon, competizione internazionale per abitazioni sostenibili, per migliorare la performance della propria casa, sta studiando anche corsi di cucina doc, come ci spiega Matteo Parlato. Questi non sono pochi, ma studenti dell'Università Roma 3, impegnati nel Solar Decathlon, competizione nata nel 2002 su iniziativa del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, dove squadre provenienti da tutto il mondo gareggiano su abitazioni a basso consumo energetico, con un impatto positivo sull'ambiente e sul portafoglio. Le 20 case concorrenti con i rispettivi abitanti si affronteranno a Versailles, in Francia, dal 28 giugno al 14 luglio, data in cui si tireranno le somme. E ora gli studenti imparano a cucinare in modo che i fornelli pesino il meno possibile sul bilancio energetico finale. Le case che noi porteremo in gara al Solar Decathlon 2014 sono case in legno, case ecologiche, case ad alta efficienza energetica, ma case soprattutto ad energia positiva, cioè case che producono più energia di quella che serve al loro uso. I ragazzi stanno cucinando cose praticamente tutte crude, ma un piatto di spaghetti non si potrà mai fare in quelle case? Ma no, allora qui siamo in gara e stiamo preparandoci a guidare la Ferrari durante tutta la competizione. Dopodiché è chiaro che tutti possiamo andare in 500 e quindi cucinare quello che vogliamo. L'importante per noi è fare cucina non a poche calorie, ma a pochi watt.